Grazie Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretari Vezzali e Bergamini. Vedete colleghi, questo decreto è il mancato esercizio della delega relativa. Sono state una vittoria per l'autonomia dell'ordinamento sportivo, portato avanti soprattutto da Fratelli d'Italia, che nella legge delega vide approvato un proprio emendamento sulla obbligatorietà dell'adeguamento delle norme nazionali, a quelle ovviamente della Carta Olimpica. In particolare dell'articolo 27, colleghi, sull'autonomia sportiva, che sono le parole chiave di questo scenario sullo sport italiano e sulla governanza dello sport italiano. Il decreto CONI risolve quindi un contenzioso importante che ha causato anche il rischio di perdere inno e bandiera alle Olimpiadi di Tokyo, con una gaff mondiale dell'ex ministro Spadafora e del governo Conte. E quindi, sottosegretaria Vezzali, lei che quella bandiera e quell'inno le ha viste sventolare, le ha sentite e le ha cantate sicuramente, alle Olimpiadi non può che capire il rischio che ha corso la nostra nazione. Vedete, il decreto in esame ha disinnescato il contenzioso con il CIO, che prevede per la Carta Olimpica l'autonomia dell'ordinamento sportivo. Ce li ricordiamo ancora alcuni sorrisini da parte di alcuni esponenti dell'allora governo sugli emendamenti dell'opposizione, di Fratelli d'Italia, che in maniera molto precisa, direi affilata, si andavano a inserire e andavano a far approvare esattamente un emendamento che imponeva e avrebbe imposto agli uffici legislativi del governo italiano, di Sport e Salute e della Presidenza del Consiglio, il confronto con il CONI e con il CIO. Ebbene, quell'emendamento venne sottovalutato, quasi nascosto tra le pieghe di una riforma che aveva molte ombre e poche luci, come poi vedremo in seguito, grazie alle audizioni. Ma quell'emendamento ha portato a questo decreto, perché bloccò la delega sull'articolo 1. Segnalammo appunto queste criticità anche nel percorso del 2019 della legge delega, fin dalla famosa riunione a Palazzo Chigi del Ministro Spadafora con tutti i capigruppo delle commissioni di Camera e Senato e responsabili dello sport. E lì glielo dicemmo subito. Guardate che così create un contenzioso con la carta olimpica e rischiamo inno e bandiera. Sempre tra i sorrisini del Ministro Spadafora, a cui però tributiamo l'onore delle armi, perché a differenza del pessimo Ministro Azzolina ha avuto il coraggio di ritornare in commissione sport, di rimettersi al suo posto, di fare il suo lavoro da deputato, dopo anche essere stato duramente criticato per il suo operato da Fratelli Italia e dalle opposizioni. E quindi gli va tributato un onore delle armi. Diverso è il Ministro Azzolina, che invece è fuggita dalla commissione scuola dopo aver devastato l'ambito che doveva rappresentare. Ma torniamo all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi di decreto legislativi attuativi della delega dell'informa dello sport, avvenuta senza l'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari. È stato questo, sottosegretario Vezzali, un vulnus delle regole democratiche, in quanto è stato scavalcato il Parlamento. Non ha certo lei la responsabilità, ma è la responsabilità del Presidente Draghi che si è presentato a questo Parlamento, con questo sedicente nuovo governo, che poi in realtà assomiglia più a un Draghi Terra che a un nuovo Draghi, a un nuovo governo, con una riforma integrale dello sport bocciata dalla quasi totalità delle federazioni, delle associazioni sportive, la Lega Calcio, tutte le audizioni che sono state fatte, quasi tutto il mondo dello sport è stato audito, e questa riforma è passata senza il parere delle commissioni sport che ci avevano lavorato in maniera così approfondita. Quindi un biglietto da visita non facile da rappresentare per lei, sottosegretario Vezzali, perché questa riforma, vede, è stato citato e ho apprezzato l'intervento del collega Cascello, che pur facendo parte ora della maggioranza, giustamente sta rivendicando le stesse cose che rivendica l'opposizione, perché da opposizione le ha sostenute nel mondo dello sport. E questa è una delle principali. Qual è la credibilità di un governo come quello Draghi che si presenta al Parlamento facendo approvare una riforma così importante in un momento così critico senza acquisire il parere delle commissioni competenti. E quindi è una bocciatura, da questo punto di vista, della prassi. Speriamo che con la sottosegretaria Vezzali, una volta che si sarà insediata, avrà preso, diciamo, contezza del suo ruolo, ma sappiamo che viene già da un'esperienza parlamentare, quindi non è esattamente una tecnica, è una politica che da tecnica è tornata a ricoprire un incarico politico. Quindi siamo fiduciosi che ci sarà un confronto proficuo. La riforma del settore dello sport, infatti, sottosegretaria Vezzali, è stata caratterizzata proprio dall'acceso contrasto tra i coni e la società sport e salute. E non ci iscriviamo al partito, e anche qui sorrisini, battutini, malizie, di chi pensa che difendiamo il coni perché difendiamo una persona o una carica. Noi difendiamo il coni perché il coni rappresenta lo sport italiano e si autogoverna anche nelle sue rappresentanze. Quindi, colleghi, su questo non passeranno le critiche o le malizie, perché il mondo dello sport si autorappresenta, ma la politica ha o aveva il compito di garantire, come prevede il CIO, l'autonomia del mondo dello sport. È stata fatta, invece, una riforma che pone direttamente sotto il controllo politico, politico, sottolineo politico, tutto il mondo dello sport, con una società che risponde direttamente alla presidenza del Consiglio. Ma dove siamo? In Cina, in Vietnam, in quale nazione siamo dove, appunto, la politica determina i contributi, e quindi la linfa vitale del mondo dello sport, soprattutto in un contesto come questo? E chi garantirà la trasparenza, il controllo, l'autonomia vera del mondo dello sport se è la politica? Non parlo di questo governo, parlo di qualsiasi governo, parlo di questa forma di governo che è stata scelta del mondo dello sport. Per questo abbiamo chiesto che il Presidente di Sport e Salute sia quanto prima udito nuovamente dalla Commissione Sport, per sentire da lui, in spirito di collaborazione, ma anche di vigilanza, quali soluzioni sappia prospettare alle criticità che ancora non sono state risolte e l'entità delle misure di ristoro gestite dalla società. Vedete, colleghi, sottosegretario Vezzali, esiste un intero mondo di società sportive, di associazioni sportive, di lettantistiche, scuole, scuole di danza, palestre, che stanno morendo, che sono chiuse da più di un anno. Da un anno. Lo sport ormai non si fa più nelle scuole, e qui soprattutto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza porremo il tema dell'adeguamento delle palestre e del valore educativo dello sport. E su questo, penso, troveremo una sicura convergenza. Nelle università non è più un valore e le eccellenze sono rarità ed è affidato al singolo Ateneo quello di avere cattedre relative o sviluppare percorsi formativi relativi. L'intero sistema sportivo non esiste nell'agenda di alcun governo e lo sta e lo è stato nei governi Conte con una riforma, come dicevamo, con tante ombre e qualche luce. Penso alle norme del vincolo sportivo su cui le associazioni di categoria hanno fatto le barricate mostrando tutte la propria criticità nel contesto della riforma sportiva. Vedete, avremmo votato anche favorevolmente a questo decreto legge proprio perché rappresentava la bandiera come il tricolore che grazie a questo decreto e grazie a Fratelli d'Italia potrà sventolare ancora alle Olimpiadi e grazie, aggiungo ovviamente, alla pervicacia, alla resistenza del CONI che ha difeso la propria autonomia. e questo DL è una bandiera che ha sconfessato tutta la politica sullo sport del precedente governo e tanto da portare al cambio del ministro dello sport come a quello della scuola. E dicevo, avremmo votato favorevolmente a questo DL, ma ce l'avete reso impossibile e vi spieghiamo perché. Ci asterremo una stensione critica proprio per esprimere la completa, totale, assoluta, rabbiosa solidarietà ai gestori di impianti sportivi, alle palestre, alle scuole di danza, a tutte le attività degli sport di contatto, a chi fa spada, fioretto, a chi rappresenta la parte più bella della nazione, quella che fa volontariato sportivo, quella che dedica i propri pomeriggi a organizzare i vivai sportivi, a far giocare i ragazzi magari in zone difficili come il judo di Maddaloni o come le tante palestre nelle aree critiche della nostra nazione, nei paesi, nei quartieri che tutti i governi nazionali, regionali, gli enti locali non riescono a risanare. Lì c'è una palestra che toglie i ragazzi dalle strade, che toglie i ragazzi dalla droga, che toglie i ragazzi dal degrado e dalla devianza. Ebbene, noi cosa facciamo? Noi, inteso come nazione, come governo, ma noi prendiamo le distanze da questa responsabilità, in quella che è una feroce guerra a questo virus maledetto, che noi non abbiamo mai negato, di cui non abbiamo mai negato la violenza. Abbiamo ricordato le 105.000 vittime da poco, l'ha fatto anche il collega Cascello, e ci uniamo a questo cordoglio e siamo stati tra i primi a chiedere la giornata nazionale per le vittime del Covid. Ma abbiamo un'oppostazione diversa. Con Giorgia Meloni lo abbiamo denunciato e chiesto più volte, con i nostri parlamentari, con i nostri capigruppo. Abbiamo detto è una guerra, combattiamola insieme, siamo a disposizione, siamo un'opposizione patriottica. Ma non fermiamo l'economia. L'economia non si è mai fermata neanche sotto le bombe, sotto le guerre, quella prima, la seconda guerra mondiale. Il rischio, la paura della morte, fa parte della filosofia orientale e occidentale. Non possiamo cancellarla, dobbiamo sfidarla con coraggio, dobbiamo assicurarci di fare meno vittime possibili, ma non chiudendo tutto. Perché chiudendo tutto noi stiamo creando le condizioni per la povertà, la fame e la rabbia sociale. Vedete, sono stato in piazza con alcuni colleghi, con l'allega Montaruli, con altri colleghi, a manifestazioni che ormai nascono spontanee, neanche più organizzate, da parte di associazioni, di palestre. E ho visto e ho visto operatori sportivi piangere, ragazzi di trent'anni che avevano investito tutti i propri sogni e i propri soldi nell'apertura di una palestra, in un programma di training, piangere di rabbia ed essere rabbiosi contro tutti, contro tutta la politica, giustamente. Non si capisce perché continuiamo a mantenere le palestre chiuse dopo avergli chiesto l'adeguamento alle linee guida dei sedicenti comitati tecnico-scientifici che giustamente sono stati cacciati dal governo Draghi. Ma purtroppo anche in quelli nuovi pare esserci un deficit di competenza. Ma lo staremo a vedere. Ma soprattutto noi siamo il governo e il Parlamento italiano. C'è l'Istituto Superiore di Sanità. Ma a cosa serve un comitato tecnico-scientifico quando abbiamo le commissioni di vigilanza dell'Istituto Superiore di Sanità? Abbiamo un governo nelle sue funzioni. Abbiamo un Parlamento che controlla. Abbiamo la commissione affari sociali che si occupa anche di sanità. A cosa serve un comitato tecnico-scientifico? Non lo capivamo. Poi lo abbiamo capito. Serve al ministro Speranza per scaricare le proprie responsabilità quando le cose vanno male e prendersi i propri meriti quando le cose vanno bene. Ma siccome le cose vanno sempre peggio colleghi del governo e del Parlamento noi siamo qui oggi a rinnovare un appello per la riapertura immediata di tutte le strutture sportive per immediati ristori. Andate a chiedere quanto ha preso l'operatore sportivo medio anche nell'ultimo DL sostegno. Sono elemosine! Ci sono operatori, gestori di palestre con tutti i costi fissi ancora attivi che sono chiusi da un anno. Non gli potete dare 3-4 mila euro o al lavoratore sportivo 600-800 euro ogni tanto. Perché non è un ristoro quello. Andate a vedere in Germania, in Francia quanto gli viene dato. La chiusura ormai da un anno degli impianti colleghi sta anche causando danni ai giovani e a chi necessita di sport come prevenzione primaria. I dati sull'obesità e sul disagio psicologico dei giovani sono inquietanti. Lo sport è anche certamente uno strumento di contrasto all'emarginazione sociale. Gianfranco Beltrami, vicepresidente nazionale della Federazione Medico-Sportiva italiana, ha dichiarato in un'intervista che un'intera generazione è quella dei giovanissimi condannata a un futuro di gravi danni per la sedentarità forzata, per l'assenza di relazioni anche che erano rinforzate dall'attività degli sport di squadra. E ancora, questa chiusura provocherà dei danni che non esiterei a definire gravi, non solamente agli atleti agonisti ma anche alle persone normali che sicuramente sono le più penalizzate da quello che si sta verificando. E poi, la prima emergenza è psicologica perché l'impatto a questo livello si riflette con sindromi di ansia e di depressione in tante persone che non avendo più le endorfine dell'esercizio fisico rischiano di cadere in queste situazioni e in queste sindrome. Colleghi, lo sport deve ripartire. Lanciamo un appello ultimativo affinché nel DL sostegno, che già prevede misure esigue per i lavoratori sportivi possano trovare spazio misure per le associazioni sportive dilettantistiche, per le società sportive dilettantistiche, per gli impianti sportivi e le scuole di danza e il più di milione di operatori che si occupano di sport per i 15 milioni italiani che fanno sport. Ne va dei posti di lavoro del prestigio nazionale e di un'ampia fetta del nostro PIL. Esiste poi anche un nodo Stadi, le grandi strutture che abbiamo affrontato anche nella riforma che porremo anche sul PNRR sottosegretario Vezzali. I progetti di molte società sono impantanati da Roma a Firenze mentre all'estero si è preveduto a migliorare gli impianti integrandoli con il tessuto urbano così come ha fatto in Gran Bretagna quando è stato costruito il nuovo stadio. In Commissione ci siamo astenuti quindi in solidarietà con lo sport allo stremo. Rinnoviamo questo appello sottosegretario Vezzali affinché si faccia carico lei che è una sportiva olimpica lei che ha cantato l'inno italiano che ha avuto l'onore e l'orgoglio di vedere sventolare quel tricolore di rappresentare al Presidente Draghi e ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico Sedicente la necessità di far riaprire il prima possibile le strutture sportive in grado di operare in sicurezza in salute pubblica di tracciare di magari fare anche i vaccini se nelle più grandi strutture attrezzate con collaborazioni con la Croce Rossa con le associazioni infermieristiche con il volontariato. Colleghi lo sport deve ripartire questa è una battaglia comune perché parafrasando una società che fa capo alla presidenza del Consiglio che non si capisce perché non ha voluto assorbire il bello che della tradizione ultra secolare dello sport italiano ha avuto appunto è stata rappresentata dal nome lo sport è salute colleghi e vedete noi stiamo dimostrando penso di essere un'opposizione che c'è c'è tutti i giorni in tutte le commissioni in quest'Aula siamo poche decine ma rappresentiamo la maggioranza degli italiani e siamo qui vigilanti ma anche partecipanti di quella che è il destino della nazione perché ci crediamo perché pensiamo che l'opposizione abbia un ruolo fondamentale nelle repubbliche democratiche perché deve vigilare sì ma in emergenza nazionale è pronta a fare la propria parte ma datecene la possibilità condividiamo la responsabilità perché è la politica che deve dare gli indirizzi e la visione e la tecnica ai tecnici eseguire questa visione e questi indirizzi non il contrario sottosegretario Avezzali ci avrà al suo fianco se riaprirà le strutture in sicurezza se farà un piano straordinario con la croce rossa per tracciare vigilare ma aprire le strutture sportive se rivedrà insieme a noi insieme alla commissione insieme al Parlamento e l'abbiamo chiamata subito e ci perdoni in audizione in commissione sport e la ringraziamo per aver accettato ma l'opposizione serve anche a questo sul PNRR perché ne va del destino della nostra nazione lo sport e gli sportivi chi lo pratica chi lo insegna chi lo vive sono la parte più bella della nostra nazione e quindi noi siamo obbligati come rappresentanti del popolo a dargli una risposta immediata e non soltanto qualche lemosina grazie